Giorno nel lavato il baby drink e la sac à poche. Utilizzo lo stampo in dotazione, lo appoggio che vada a combaciare perfettamente sulla mia torta e poi con il sac à poche vado a ricoprire. Ho lasciato qualche buco? No, no. Di qua no, di qua sì. Le code ci sono, ma quelle le togliamo noi. Tu ce l'hai lasciato ancora, l'hai lasciato ancora. Vabbè, vado sotto. Coda, coda, guarda qui. Chi mi tiene? Aspetta un secondo. Sì. Ok, è una seconda passata. Oh no? Alzo. Wow. Strisci un po' per levare le code. alzo, appoggio due minuti in abbattitore facciamo tirare la glassa guardate come è lucido quando flasciate questo è un tiramisù guardate come potete impreziosire un centro di tiramisù grazie